e cari amici cari amici ma io non credo ai miei occhi su facebook ho trovato un post con 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 il volto di laura boldrini e dove laura boldrini dice che la tabla si deve fare la si deve fare e io poi sono andato a vedere e laura boldrini dice che la tab ormai la si deve fare e poi dice perché la condizione dei pendolari è molto difficile ma io non credo ai miei occhi io credo che sia una fake news aiutatemi anche voi cari amici io non capisco che cosa c'entri la bella e brava laura boldrini con la taf non capisco io ho sempre pensato che laura boldrini si occupasse solo dei migranti e che relativamente alla taf laura boldrini dicesse ma piuttosto che buttare via i soldi per la taf i soldi meglio utilizzarli per i migranti fatemi sapere cari amici se il post la notizia che io vi metto nel riassunto di questo video è una notizia vera o è una fake news perché se la notizia è vera e vuol dire che a questo mondo non c'è più religione vuol dire che laura boldrini si è convertita al credo di matteo salvini che matteo salvini vuole la tav vuole la flat tax fatemi sapere voi e io ho già dedicato tanti video alla tav ho parlato pure della decisione della corte dei conti europea corte dei conti europea che dice che la tav è inutile dannosa ed eccessivamente costosa e le questioni ecologiche dove ne mentiamo ma laura boldrini dammi una mano dimmi se la notizia che circola su facebook è una notizia vera o è una una fake news una fake una fake news i pendolari ma di quali pendolari parliamo semmai dovremmo parlare dei pendolari dell'italia da roma in giù specialmente dei pendolari della sicilia della calabria della campania lavora boldrini dammi una mano fammi sapere lavora boldrini se la notizia che circola relativamente a te dove tu dici che la tavola si deve fare e che la situazione di pentolari è drammatica dimmi se una notizia vera una notizia falsa perché se una notizia vera vuol dire che a questo mondo non c'è più religione ok cari amici e beh c'è la corte dei conti europea che ha detto che la tav è inutile dannosa ed eccessivamente costosa ma è possibile che che questa decisione della corte dei conti europea non sia citata dal nostro premier giuseppe conti ma possibile che laura boldrini non la conosca eppure ormai è da tantissimo tempo che io ne vado parlando e la decisione la metto sempre come link nel riassunto dei video che vado dedicando alla tav ok laura boldrini mi raccomando laura boldrini fammi sapere qualcosa fammi sapere se la notizia che circola è una notizia vera o è una fake news ok laura boldrini a te laura boldrini a tutti voi tanti cari saluti da serafino massoni ok 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 ok